Sappiamo che con i social si parla anche alle volte a sproposito di guerra, di pandemia eccetera e la scuola invece ha il compito di educare con competenza. Raccontare la guerra per educare alla pace è il titolo dell'incontro organizzato dall'Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino e che ha visto protagonista il videoreporter di guerra Sebastiano Fezza. Per il dirigente scolastico Camillo Dintino è stato come tenere in poche ore 10.000 ore di educazione civica e dietro l'evento c'è la volontà, sottolinea, di dare una testimonianza concreta sul campo in questa situazione particolare per far comprendere cos'è una guerra e quanto sia importante la pace. Fezza di guerre ne ha documentate 17, realizzando oltre 100 reportage per la RAI in zone di crisi nel sud del mondo oltre ad aver collaborato per 5 anni con la ONG Maram Foundation per aiutare i bambini nella scuola al-Iqam nel campo profughi di Atam in Siria. La tensione di Fezza, parlando agli studenti, si focalizza su tutte quelle persone che a causa della guerra sono costrette ad abbandonare la propria terra, ovvero la guerra degli ultimi. È la guerra della gente, quella che deve abbandonare le proprie case. Voi provate ad immaginare una famiglia, madre, padre dei bambini che di colpo dalla sera alla mattina si trova costretta a dover lasciare tutto quello che ha costruito in una vita per andare non si sa dove, per finire in un campo profughi. Ecco, queste sono le guerre che noi dobbiamo raccontare e quello che io cerco di fare sempre dopo tanti anni di attività in prima linea è quella di raccontare ai ragazzi che cosa vuol dire subire una guerra e non esserne protagonisti. Intanto l'Istituto di Loreto Aprutino, per stessa ammissione del Preside, è infatti tra quelli che ha dato disponibilità ad ospitare tra i suoi banchi i ragazzi ucraini.